Musica Musica Lascio adesso la parola al collega, l'ingegnere Andrea Scodellari, esperto in ambito di sicurezza elettrica, il quale sostanzialmente ci parlerà di un argomento dal titolo Gli impianti fotovoltaici su edifici e terreni agricoli, nuovi incentivi e misure di sicurezza. Prego Andrea, a te la parola. Buonasera a tutti. Ringrazio ovviamente il professor Massimo Cecchini per l'invito, questa interessante giornata di studio. Questo contiene tutto il mio intervento. Ringrazio pure Gianluca. Allora, aspettiamo un attimo di vedere. Io parlerò oggi degli impianti fotovoltaici, però non quelli che siamo abituati purtroppo a vedere sui terreni agricoli, che non sono belli, parliamoci chiaro, perché sono degli impianti che non permettono la coltivazione del terreno, è tutto terreno sottratto all'agricoltura purtroppo. E quindi questo sarà l'argomento. Allora, ho messo qui la finalità del decreto, ho illustrato la finalità del decreto legislativo 199 del 2021, che ha proprio l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese e rega disposizione in materia di energia da fonti rinnovabili. Quindi non solo il fotovoltaico, io però vi parlerò del fotovoltaico in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Questi sono gli obiettivi. Ovviamente in coerenza con le indicazioni sia del piano integrato per l'energia e il clima e sia del piano nazionale di ripresa e resilienza. Allora, questi impianti vengono chiamati agrivoltaici perché in realtà permettono la coltivazione del terreno pur in presenza di un impianto fotovoltaico. E questa è un po' la novità. L'impianto fotovoltaico possiamo pensarlo come sospeso attraverso delle strutture e quindi non a contatto col terreno. Questo permette di mantenere il terreno utile per l'agricoltura con i livelli di sole necessari, di presenza di acqua perché sui vecchi purtroppo fotovoltaici sono stati pure utilizzati molti diserbanti per togliere completamente l'erba anche perché costituirebbe fonte di ombreggiamento per il pannello stesso quindi di manutenzione continua perché l'erba lo vediamo già andiamo a bordato strada, lo sfalcio è continuo, l'erba crescerebbe continuamente invece su quei campi ce n'è ben poca proprio per questo motivo non solo, che crea pure inquinamento tra l'altro. Quindi questi incentivi hanno dei contributi in conto capitale dal 30 all'80% per ciò che riguarda la parte delle coperture degli edifici agricoli e sono stati stanziati 1 miliardo e 500 milioni per questi interventi e poi vi parlerò che cosa è incentivato un 40% per i parchi agrisolari in conto capitale questo ancora si prevede lo stanziamento di 1 miliardo e 100 milioni tra l'altro puntando proprio sulla vocazione agricola del nostro paese lo vediamo andando in giro per la penisola quindi è fondamentale che questi impianti non vadano ad interferire con l'attività agricola e pastorale sottostante gli impianti stessi e quindi tra l'altro un consiglio è stato recentemente con una sedenza ha proprio ben evidenziato questo aspetto cioè che è quello della differenziazione dal vecchio impianto fotovoltaico che noi siamo abituati a vedere e quindi permettendo un utilizzo ibrido del terreno sia per la produzione agricola sia per quella di energia però necessaria al funzionamento di tutta la gestione agricola del terreno quindi non è assimilabile al vecchio impianto fotovoltaico che non contribuisce per niente anzi ha danneggiato l'agricoltura e quindi rendendo impermeabile il suolo qui come vi ho indicato nella slide impedendo la crescita della vegetazione e quindi creando dei danni tutt'altro obiettivo a questo finanziamento in essere tra l'altro proprio per questo motivo è previsto durante il ciclo di vita utile dell'impianto agrivoltaico il modello del microclima del risparmio idrico il recupero di fertilità del suolo resilienza ai cambiamenti climatici e della produttività agricola attraverso sensoristica e elettronica di comando e quanto si rende necessario appunto per svolgere questi compiti non tutte le aree ovviamente sono idonee per questa installazione tra l'altro il decreto legislativo che ha recepito appunto una direttiva europea integrata dai decreti legge le aree idonee all'installazione degli impianti sono i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte diciamo magari come ho detto noi parliamo della parte fotovoltaica le aree e i siti oggetto di bonifica le cave e le miniere che non sono più utilizzate i siti del gruppo ferrovie dello Stato e le aree che ovviamente non sono ricomprese nei territori soggetti sottoposti a tutela e che non ricadono neanche nella fascia di rispetto per il fotovoltaico è un chilometro ad esempio per l'eolico sono 7 chilometri ovviamente le regioni possono intervenire evidenziando queste aree non idonee per esempio la regione Piemonte mi sembra che è una di quelle che sta ostacolando in maniera importante la possibilità di creare impianti fotovoltaici come vi ho detto poc'anzi insieme proprio alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico che è l'obiettivo primario possiamo eseguire diversi interventi anche di riqualificazione ad esempio rimozione e smaltimento dell'amianto dai tetti ovviamente di pertinenza dei terreni agricoli realizzazione dell'isolamento termico conseguentemente e anche realizzazione di un sistema di areazione connesso alla sostituzione dei tetti per realizzare un intercapetine di aria quindi sono assimilabili le spese ammissibili sono acquisto e messi in opera di materiali necessari a realizzazione dell'impianto quindi tutta ovviamente la parte fotovoltaica dai moduli a fotovoltaici all'inverter a tutti i sistemi eventualmente di accumulo con le batterie a tutti i software di gestione ai quadri, i cavi i quadri elettrici appunto e le cabine di trasformazione poi i costi di connessione alla rete demolizione e ricostruzione di coperture dispositivi anche per la ricarica elettrica sono incentivati e per la mobilità sostenibile per le macchine agricole e tutte le spese inerenti alla progettazione l'asseverazione e altre spese professionali che richiedono il tipo di lavori allora quanti sono i limiti dal punto di vista economico allora 1500 euro per kilowatt per l'installazione dei moduli 1000 euro per kilowatt per i sistemi di accumulo con un limite di 100.000 700 euro per kilowatt per la diminuzione e ricostruzione delle coperture fornitura e fornitura e posa in opera di tutti i materiali e 30.000 euro per i dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile tenendo conto che gli impianti vanno dai 6 kilowatt a un mega la spesa massima ammissibile per ogni singolo progetto sarà pari a 2.330.000 euro allora qui ho fatto ho inserito in questa tabella tutti i rischi presenti in una gestione di un impianto fotovoltaico andiamo suddividendoli per l'area di impianto e per la cabina perché un impianto di un mega ovviamente fornirà l'energia in media tensione quindi avrà bisogno dei trasformatori che la trasformino dalla parte in bassa quindi da quella fornita direttamente dall'inverter alla parte in media tensione ad esempio 20.000 poi dipenderà dalle zone d'Italia e quindi saranno elettrocuzione biologico incendio terreno instabile scivoloso materiali di scarto e rifiuti sostanze chimiche urto in ciampo caduta in cavità perché sono presenti ovviamente pozzetti per la distribuzione dei cavi l'impianto di messa a terra poi ci potrebbe essere proiezione di scheggio il pannello si può rompere recentemente abbiamo avuto degli incidenti delle rotture dovute alla grandine che cadono dei chicchi di grandine che hanno un impatto maggiore di quelli relativo al metodo di prova dei pannelli stessi perché vengono provati in base alla normativa proprio per la resistenza del vetro agli oggetti che lo possono colpire poi abbiamo ustioni anche perché il pannello fotovoltaico è molto caldo soprattutto il retro del pannello e quello mi rialaccio pure quanto è stato detto a proposito di incendi che si danneggia l'incendio lo dà soprattutto il retro del pannello raggiunge temperatura anche superiore ai 70 gradi a causa delle connessioni delle stringhe dei pannelli tra loro abbiamo presenza di gas dovuto alle batterie anche se ormai ne producono ben poco di etrogeno condizioni climatiche caldo e freddo luminosità degli ambienti interazioni con i mezzi polveri e fulminazioni io qui ovviamente nella slide adesso non ne parliamo perché ho esaurito il tempo a disposizione li ho trattati un pochettino uno per uno la presenza dico solo una cosa rubo un minuto la presenza l'ho perso sostanze chimiche i pannelli fotovoltaici contengono anche sostanze potenzialmente pericolose come cadio e piombo dovute a metallizzazioni e ad altri componenti del pannello per cui la la rottura di un pannello potrebbe comportare lo sversamento di sostanze tossiche potremmo dire urto in ciampo l'abbiamo detto finisco solo le ustioni dovute al calore raggiunto dai pannelli una sola cosa metto in evidenza sulla parte della fulminazione allora la fulminazione eccola il rischio di fulmine è presente sia se lo mettiamo sulla su una struttura sia come l'impianto agrivoltaico lo mettiamo sul 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 terreno a una certa altezza quindi noi possiamo realizzare diversi impianti va fatta una valutazione rischio c'è la norma tecnica la ENS2305 che dà tutte le indicazioni per fare la valutazione rischio sia della parte sul terreno sia la parte sull'edificio richiede l'installazione di scaricatori di sovratensione che non so altro che dispositivi che veicolano la sovratensione a terra e la protezione eventualmente con una sorta di gabbia di faraday con un impianto che può essere isolato oppure in equipotenzialità col terreno l'ultima slide che vi faccio vedere è anche sulla parte di equipotenzialità è vero che i componenti sono tutti in classe 2 dal punto di vista elettrico significa che sono doppio isolamento non hanno necessità della messa a terra però è importante creare equipotenzialità per le sovratensioni che potrebbero crearsi qualora dei fulmini non dico che colpiscano i pannelli o l'edificio ma colpiscano in prossimità degli stessi e quindi è importante realizzare un impianto equipotenziale con l'impianto di messa a terra perfetto con questo chiudo perdonatemi lo sforamento grazie Andrea no ti chiediamo scusa a noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti